bella a tutti ragazzi venuti in questo nuovissimo video stavolta siamo su rainbow six edge operation steel wave ragazzi guardate nei test server per provare i nuovi operatori ci vediamo in game ragazzi siamo siamo tornati con melusi e raga non vi nascondo che sto registrando questa clip per la quindicesima volta perché tra lag tra ambulanze tra melusi e tra il lui che si protegge dal coronavirus raga seguite il suo esempio hashtag si alla mascherina hashtag si al porco demonio hashtag si a sto cazzo di ricoso e scassericato allora mettiamo il il prisma allora vi spiego la sua abilità la sua abilità e blocca i nemici li rallenta i nemici e vi darà un assist in caso vengano uccisi dai vostri compagni come armi arma di lesion e pistola di zofia dela e come secondaria una pompa di frost ok raga ora vediamo i terroristi oh oh allora ragazzi questo è ram melusi è molto semplice molto semplice da usare molto semplice niente ci vediamo con ace grazie e bentornati qui siamo con ace breacher arma di diffuse senza mirino dei russi però con il mirino normale l'acog lo uso pistola francesi un breacher quando già ho detto allora distruggiamo questo non vogliamo non vogliamo le cani poletane ok allora ora vi farò vedere la sua abilità ah raga quanto tragliardano sti terroristi ma zitto allora guardate piazzate qua e lui si ribalterà e distruggerà il muro per tre volte uno due c'è ancora un terrorista qua dentro ahhh e tre vedete semplicissimo un rettangolo vabbè ragazzi questo era ace semplicissimo da usare se il video vi è piaciuto lasciate like commentate condividete da the legend è tutto ci vediamo a un nuovissimo video bella ragazzi ciao